Ciao Danilo, come è stata la tua esperienza al Master? L'esperienza del Master di Stava è stata un'esperienza molto importante per la mia formazione, non avendo mai approfondito in maniera così dettagliata e puntuale i temi riguardanti il menaggimento sanitario. Come è stato lo Stadi Tour in Spagna? Allo Stadi Tour in Spagna, a conclusione del nostro Master, ci ha permesso di guardare una realtà non così diversa dalla nostra perché trattasi comunque di un paese del sud dell'Europa con un sistema sanitario anche qui nazionale, seppur delle differenze con quello italiano. Quello che mi ha colpito è una divisione tra tutto ciò che è sanitario e tutto ciò che è sociale e il grosso tentativo, la grossa politica a livello nazionale che si sta facendo affinché queste due realtà dialoghino e in realtà operino in maniera strettamente integrata.